Il minimo comune denominatore di questo ritiro sia Bormio che Mondovì è stato il grandissimo entusiasmo e l'affetto della gente, del pubblico e dei tifosi. È un calore che voi sentite ovviamente? Certo, come tutti gli anni sicuramente i tifosi fanno una grande parte di questo club, quindi siamo contenti che stanno sempre con noi. Speriamo che durante la stagione, anche in momenti dove forse siamo in un po' di difficoltà, siano sempre con noi perché noi sicuramente abbiamo bisogno di loro. Un partito ufficiale, impegno non semplice, pesca una squadra ambiziosa che può tornare in Serie A, comunque è una sfida importante anche che siamo a metà agosto, quindi preparazione quasi completata, magari per non essere ancora al 100%, una sfida delicata ovviamente da vincere. Ma certo, adesso inizia il campionato da questa partita, quindi ci sono sempre tre punti da giocare, quindi è una partita già seria. Senti, e poi per te a livello personale, tra due settimane avrai una bambina? Penso tra due settimane perché comunque dovrebbe essere il primo settembre, però comunque sappiamo che forse un pochino prima o un pochino dopo, però sì, comunque manca poco e sto aspettando sicuramente questo momento.